Ehi, prima di lasciare la parola a Mr. Nichilista, io sono solo un intruso, volevo dirvi che stasera live importantissima alle 19.40, quindi un po' prima del solito, sul canale Mr. Nichilista TV, una live filosofica e sarà in onda, vedrete un documentario di Pasolini e Guareschi e Mr. Nichilista farà una reaction e anche voi in chat potrete reagire. Quindi stasera 19 canale, 19.40, 19 canale, balbetto come Mr. Nichilista, incredibile, mi ha contagiato. 19.40, canale Mr. Nichilista TV, link che trovate qua sotto, live filosofica, come tra l'altro ogni lunedì. Stavolta però non si parla di vita, ma di aspetti più legati alla nostra società. Stasera, vi aspettiamo, vi aspettiamo, io sarò nascosto nell'armadio mentre Mr. Nichilista parlerà. Ora, via il vigia di oggi, a stasera. Buonasera a tutti, prima del video di oggi, importante, vengo a dirvi che il vostro aiuto per me è indispensabile, in quanto con la monetizzazione di YouTube si guadagna sempre meno, Le vostre donazioni, mediante Paypal, descrizione, primo commento, sono fondamentali. O quando vi va, appunto, mediante Paypal, oppure adesione al Patreon, che è un qualcosa di più continuativo. Quindi grazie, che aderite al Patreon, se vi abbonate qua, col tasto abbonati, è ancora meglio se mi donate mediante Paypal, perché Paypal non trattiene niente, arriva tutto a me. Grazie per il supporto. Allora, voglio fare un video partendo da un commento che mi è arrivato recentemente. In teoria però amare interessa la vita. Io spesso esalto il pensare, non a quello che faccio domani, o a che lavoro voglio fare da grande, ma pensare, esalto l'amare in quanto nobilitanti. Mi viene detto, in teoria però anche amare interessa la vita, qualsiasi cosa che ci fa prolungare la nostra esistenza interessa la vita, qualsiasi cosa che porti piacere interessa la vita, non al suo perpetuarsi, ma al suo mantenersi viva. E però un conto è il perpetuarsi, quindi ciò che è funzionale alla procreazione. Un conto è quello che è funzionale a rimanere vivo. In che senso amare interessa la vita? Amare, che non contempla la necessità di fare figli, non è funzionale al procreare, ma non è funzionale neanche a rimanere vivi. Cioè non ha bisogno di amare per rimanere in vita. Non ha bisogno di amare per fare figli. Quindi non riesco a capire in che senso amare interessa la vita. Quindi attenzione, l'innamoramento sì, l'istinto sì, che ti fa avvicinare all'altro così aumenteranno le chance di accoppiamento. Ma l'amare, che ha senso elogiare e definire nobilitante, è un'altra cosa. Certo, ha una componente che magari è biologica, ovvero noi siamo dotati celebralmente di empatia, siamo animali sociali e questo è funzionale a rimanere in vita. Perché da soli non sopravviveremo, viviamo in collettività, no? Con la collaborazione. E quindi essere empatici rispetto ai bisogni dell'altro, un minimo di empatia è funzionale a riuscire a collaborare. Però quello non è amore. Magari si parte da quello, è ovvio, siamo esseri biologici, non possiamo far nascere un qualcosa dal nulla, no? Non credendo in uno spirito fisico, non credendo in un Dio. Si parte dalla biologia, poi però la puoi sublimare, aumentandone quantitativamente la rilevanza. E come insegna Galimberti, quando un fenomeno aumenta quantitativamente in maniera considerevole, poi il cambiamento è anche qualitativo. Se quella roba lì la fai crescere, la fai crescere, diventa dare all'altro il più possibile incondizionatamente, non solo allo scopo di ricevere qualcosa in cambio, ma perché capisci che l'altro è un essere umano, con le sue sofferenze, con la sua storia, e hai a cuore l'altro, hai a cuore il benessere dell'altro. Quindi fai qualcosa per l'altro. Diventa qualcosa che si avvicina al nobile. Non è la natura non c'entra, sei un angelo. Però ti emancipi in parte da quello che biologicamente saresti senza questo percorso di crescita. Andiamo avanti. Quando saranno ancora più chiari i meccanismi della mente, da un punto di vista scientifico, tutto diventerà ancora più privo di senso. Quanto è freddo pensare che le emozioni sono associate ad ormoni? Quando è freddo pensare che l'amore, in quanto sensazione, sia associato ad un meccanismo neurotrasmettitore dipendente? Però queste parlano di sensazione. Sono con la persona con cui mi trovo a mio agio e sento il cuore che batte, mi manca se non c'è, lì proprio sensazioni che senti. Ma l'amore, che ha senso definire tale, in senso esaltante, non è solo quello che senti. Chiaro, se non sentissi niente, poi non arriveresti neanche ad amare in senso di atto. Però l'amore è nell'atto di dare, è nella capacità. L'amore è una sensazione, è una capacità. Ovvero riesco a ridurre l'ego, non penso solo a me. Ovviamente per non pensare solo a sé, occorre uscire in parte, almeno in gran parte, dai propri bisogni, dalle proprie sofferenze, dalle proprie ferite. Pensiamo ad un ragazzo, ma posso anche mettermi io, Enrico, 16 anni, 17 anni, 20 anni, le prime esperienze con l'altro sesso. Io, per quanto mai stato particolarmente sofferente, però avevo un po' meno di autostima di adesso, mi sentivo solo, avevo bisogno di sentirmi amato. Allora cercavo l'altro e chiamavo amore con l'idea di trovare qualcuno che mi amasse, che mi messe attenzioni, che mi scrivesse ogni giorno. Anche io ovviamente avevo dato il massimo all'altro, però era animato da una voglia di sentirmi scaldato, mi sentivo al freddo. È chiaro che lì ero mosso principalmente dal bisogno. E quando sei mosso dal bisogno, pensi più a te che all'altro. Magari dai qualcosa all'altro, ma perché pensi che bello poi l'altro li cambierà. E se non arriva magari ti lamenti, giudici, perché fai così, perché non sei dolce come me. Poi attenzione, sto dicendo che crescere e imparare ad amare vuol dire eliminare ogni bisogno, però il bisogno non è più il motore, è una componente, ma non è più decisiva. E allora pensi davvero più all'altro. E chissà quanto diventerà ancora più freddo il tutto quando capiremo quali sono i meccanismi che innescano questa reazione emotiva. Quando sarà freddo è quando scopriremo nel dettaglio cosa determina il nostro io, quella voce interna in cui mi identifico e che mi fa riflette e ragionare. Ma attenzione, capire che noi siamo biologia, quindi figli dell'evoluzione, è fondamentale. Ed è ovvio che questo inquieta, è ovvio che questo dà un senso di desolazione, di miseria, di niente. Il niente non è la morte, ma il niente è la vita. È proprio poca roba, anche se noi ci crediamo tanto. È davvero solo quello. Infatti siamo carne destinata a decomporsi e scompariamo con l'eternità. Le nostre emozioni sono il fuglio di questo cervello. Carne più attività elettrica. Anche ciò che mi porta a crescere, anche la crescita personale che mi porta ad amare l'altro è figlio di un'attività elettrica chiaramente che ha necessità di un percorso di crescita perché non ce l'hanno tutti. Però quello è. Quindi da un lato c'è questa consapevolezza e questa inquietudine che secondo me è già, se uno è consapevole, lucido, è già adesso, può essere già adesso presente. Quando però magari sarà ancora più evidente, ancora meglio descritta, sono d'accordo, forse ancora più forte sarà la miseria. Però non toglie, secondo me, anche se capisci che è tutto lì e basta una botta qua, sono un vegetale, basta una macchina che mi investe e non ci sono più niente di me. Perciò non toglie la bellezza di riuscire a pensare veramente, ad amare veramente. Perché se tu non cresci, sei un essere umano che ha sempre il cervello, ha sempre le emozioni, che però è egoista, pensa al proprio orticello, chiama amore ciò che è egoismo, magari tratti male gli altri, non per forza sei un criminale, però sei un mediocre egoista che pensa un po' a sé, fa qualche buona azione, però sempre nella superficialità, di pensiero e di sentire. È ovvio che lo stesso destino ce l'ha anche la persona più consapevole, più capace d'amare, più matura. Non è che poi cambia la fine. Però mentre ci sei è bello poter essere più profondi. Quando tu comunichi con qualcuno, incontri qualcuno, rispetto ad uno chiuso di mente, bigotto, ignorante, che non capisce nulla, che è chiuso nelle sue idee, che è giudicante, rispetto a questa prospettiva, e ci sono tante le persone così, incontri qualcuno che va oltre le apparenze, va oltre il sentito dire, ha capacità riflessiva, ti ascolta, è gentile, buono d'animo, ti viene da dire mamma mia che bellezza. È comunque importante che si sviluppi un certo tipo di percorso, un certo tipo di qualità. È importante che si sviluppino, anziché altre. Poi è ovvio che la natura è sempre cerebrale, attività elettrica, però c'è attività elettrica e c'è attività elettrica. Un'attività elettrica è un'attività biologica che ti porta ad essere un omuncolo, un umano medio, oppure un essere umano sempre biologico, attraversato da attività elettrica, però più capace di capire. È un fatto. Ci sono persone che capiscono di meno di altre, ci sono persone che amano di meno di altre. È ovvio che questo amare di più è sempre biologia, però evviva comunque esaltare chi riesce a intrappena il suo tipo di percorso. va bene esaltare certe qualità rispetto ad altre caratteristiche. Poi è ovvio che occorre rimanere con i piedi per terra e non dimenticarsi che siamo comunque mortali e pezzi di carne con un cervello complesso, ma pur sempre chimica, fisica, biologia. Però, nonostante l'inquietudine, la consapevolezza del niente, è comunque bello che tra tutta questa biologia spunti anche all'interno di una specie un qualcuno di più profondo, di più capace d'amare, di più capace di sentire, no? Non mi viene di, non mi viene da dire cosa serve questo? Non serve per un dopo, non serve per cambiare il non senso della vita, però serve per vivere meglio e se questa cosa si diffondesse il presente sarebbe ancora migliore. Ma anche in un presente che continua a essere pieno di depensanti e di insensibili, per te e la tua piccola cerchia, il tuo piccolo modo del mondo è importante perché da qui alla tomba è meglio l'esistere, è migliore l'esistere. Andiamo avanti. Non parlo dell'anima, quella non esiste, ma proprio questa voce mentale con cui il mio corpo riesce a ripensare a delle esperienze, compiere gesti, vivere emozioni, scrivere questo commento. Capisco perfettamente cosa intendi per questa parte di io interiore che sembra alto rispetto al corpo ma che in realtà, scientificamente parlando, ahimè, è prodotto del corpo. Capisci cosa intendi? Tutto si basa su un equilibrio dinamico di atomi e molecole e di per sé la cellula viene definita come la più piccola unità vivente, però di base la cellula singolarmente non fa nulla di speciale, né di diversa da quello che farebbe un sasso, per esempio, certamente. poi l'insieme di queste cellule sottosta semplicemente alle leggi della fisica e della chimica. Se la metti in una soluzione iperosmotica si rinsecchisce svuotandosi dell'acqua contenuta nel suo citoplasma, mica per altro, mica perché può farci qualcosa, mica per scelta, ma perché deve andare così per le leggi chimiche. Ha però una membrana cellulare che aiuta a regolarne gli scambi con l'ambiente esterno e impedire o perlomeno tentarsi che le perturbazioni esterne lo facciano sfaldare. Ecco, un insieme di cellule diventa tessuto, un insieme di tessuti organo, insieme di organi, sistema ed insieme di sistemi organismo, noi. L'amore non è forse la nostra membrana cellulare che ci aiuta a non sfaldarsi e quindi amando di chi stiamo facendo il gioco, il gioco del nostro io con cui noi ci difetichiamo semplicemente delle nostre cellule. Ecco, rispondere a questa domanda direttamente? No. L'innamoramento? Sì. Gli istinti? Sì. Ma a mio avviso il pensare in maniera lucida uscendo un pochettino dai nostri panni sfruttando ovviamente sempre un'attività elettrica ma indirizzandolo verso un qualcosa di non schiavizzato dalla biologia quindi uscendo dai nostri panni arrivi per esempio a conclusioni col pensiero tipo ma che senso ha procreare? Io ci sono e cerco di vivere al meglio insieme ai miei simili ma perché mettere al mondo qualcun altro e metto nella condizione di dover trovare il modo per vivere a me non lo faccio direttamente pensa quanto è anti-evolutivo un pensiero simile una costruzione simile pensa quanto non è funzionale al rimanere a procreare no? Eppure si è arrivato con il pensiero quindi anche se il pensiero è principalmente attività elettrica col pensiero tu puoi arrivare ad un qualcosa che non è assolutamente funzionale a la procreazione per esempio ma che è utilità anche per rimanere vivo nessuna utilità è una costruzione che tra l'altro ti fa parecchio inquietare in qualcuna addirittura o togliere la voglia di vivere poi per me non è necessariamente non si arriva necessariamente a quel risultato anzi magari l'inquietudine di prima di primo acchitto la botta iniziale sì specialmente se prima credevi e devi mondo delle fiabe ma poi è possibile pur convivendo con le inquietudine accettare la realtà e vivere secondo realtà stessa cosa l'amore un conto è il destino sessuale la voglia erotica un conto è l'attrazione sessuale sublimata nel senso che ma io non sono anche pensando al sesso mi piacciono i tuoi occhi mi basterebbe guardarti tenerti per mano magari neanche conosci l'altro è comunque figlio di quella cosa lì un conto è diventare una persona indipendentemente dall'estimento sessuale gentile amorevole perché l'amore non è intender semplicemente con l'altro sesso è una propensione tua interiore verso tutti parenti non parenti commesso alle case signora che per sbaglio ti viene addosso al supermercato sei scontoso ma che cazzo fai sono in clac ho senuto e tagliare la strada o cerchi di essere amorevole gentile comprensivo non giudicante perdoni ti piace attivarti per far gioire l'altro ma non ha lo scopo poi di avere qualcosa in cambio altrimenti i lamenti aspetta non sto parlando di un qualcosa che elimina i bisogni elimina completamente l'ego è ovvio però che lo va a ridurre più c'è l'incondizionato più in questo senso si tapano d'amore se per amore interiamo a questo per me l'unico amore è questo il resto c'è può portare anche cose piacevoli però se tutti fossimo innamorati bene o male tutti si innamorano anche ricambiati avremmo risolto i problemi del mondo delle nostre sofferenze no perché l'innamoramento di per sé a parte che non è infinito a livello temporale poi di per sé non comporta nulla non ti fa crescere non ti fa per forza risolvere ogni infelicità l'amore necessita prima di tutto amore che tu hai nei confronti di te stesso per essere tale comunque più c'è più è tale l'amore indirizzato fuori e allora l'amore migliora la tua vita nel rapporto con te stesso migliora il rapporto con l'altro perché non è ego ti do se tu non mi dai mi lamento scambio commerciale quindi è qualcosa che migliora la tua vita migliora il mondo e non ha nessuna non ha un'attinenza con la continuazione della specie o la sopravvivenza individuale a livello biologico permette di essere più felici ma la natura le cellule all'amore non interessa la nostra felicità infatti la maggior parte delle persone sono infelici da sempre ma chi se ne frega anche se sei infelice tu rimani in vita magari sì ci sono dei meccanismi che fanno sì che non posso dire non arrivi ad essere così infelice da volerti autodistruggere da sconfiggere l'istinto di sopravvivenza ci sono ma sono pochi casi ma un'infelicità media collettiva non ostacola comunque le persone ad andare avanti a rimanere vite ad accoppiarsi a progreare non significa nulla la natura della felicità quindi essere felici non provare dei piaceri momentane ma essere felici inteso come provare un'armonia un buon rapporto con se stessi e così ti ami e sai amare che non significa essere sempre perfetto però sei più perfetto rispetto a prima ti avvicini al ideale e questo fa bene a te non alla specie la felicità è contro natura il pensare tanto che il pensiero massimo è non faccio più figli è contro natura l'amare è contro natura ecco questo video lo potrei titolare amare pensare ed essere felici sono cose contro natura assolutamente assolutamente poi amare pensare non è che cosa amiamo il nostro dare in che modo si manifesta con il nostro corpo il nostro agire andiamo da una persona con le nostre parole la nostra mente quindi sempre corpo e cervello la nostra felicità è qua dentro i nostri pensieri qua dentro è ovvio senza cervello nulla non c'è anima spirito però è davvero un qualcosa di più alto partiamo da una biologia e la portiamo al meglio che ci può essere ripeto questo non mi fa dire che meraviglia tutto stupendo vita meravigliosa no il dramma io parlo di dramma è un dramma il fatto che siamo biologia che diventa più complessa è un dramma però in questo dramma c'è qualcosa di più alto che ha senso riconoscere e per cui ha senso battersi in questo comunque non senso che è l'esistere ma in questo non senso in questo dramma l'unica cosa che ha senso è cercare di basare la nostra vita sul pensare e l'amare cercare di essere felice non seguendo le ricette fallaci della nostra società ma un qualcosa di più saggio che insegnavano gli antichi greci magari alcune dottrine orientali anche parte del cristianesimo che però molto spesso diventa soltanto buon proposito formale a parole e di sostanziali non c'è niente poi si muore si scompare però questa è l'unica cosa elogiabile è una cosa in cui ha senso applicarsi quindi io ci vedo il dramma ci vedo la miseria però ci vedo anche in qualcosa di più nobile rispetto alla biologia più effimera più fine a se stessa e più miserabile ciao commenti qua sotto e condividete